Un percorso di istruzione per chi non ha assolto l'obbligo scolastico per poter così accedere ai tirocini non curriculari. Regione Toscana, Ufficio Scolastico e Rete dei Centri per l'Istruzione degli Adulti hanno firmato un protocollo per andare incontro a chi non ha assolto o non è in grado di dimostrare di aver assolto l'obbligo di istruzione essenziale per accedere ai tirocini non curriculari. L'iniziativa si rivolge anche ai cittadini stranieri che spesso pur avendo titoli di studio acquisiti nei paesi di origine non sono in grado di esibirne la certificazione. Per la Regione a firmare l'intesa sono stati l'assessore all'istruzione Cristina Griaco e l'assessore all'immigrazione Vittorio Bugli. Dare chance e più strumenti per una integrazione efficace anche per l'utilizzo efficace dello strumento del tirocino extracurricolare per aumentare le chance di occupabilità dei giovani attraverso questo percorso di formazione. Una misura che punta anche a favorire l'integrazione dei cittadini stranieri dando loro la possibilità di accedere così ai tirocini. Quest'accordo attraverso i CIPIA che sono distribuiti su tutto il territorio essi possono intraprendere un percorso che dimostra di essere a conoscenza di quello che analogamente comporta il percorso scolastio. L'azienda prima di attivare il tirocino deve contattare il CIPIA per far frequentare il corso al tirocinante. Alla fine del percorso sarà rilasciato un certificato che attesta l'acquisizione delle competenze di base per l'obbligo di istruzione.